Dio riconcilia e pacifica camminando con il suo popolo, nel piccolo. Non fa una grande assemblea, non firma un documento. Lo ha spiegato Papa Francesco nell'Omelia della Messa del Mattino, celebrata nella cappella di Casa Santa Marta, commentando la prima lettura tratta dal libro del profeta Michea, dove si parla della piccola Betlemme che sarà grande perché da quel piccolo viene la pace. Sempre, ha ribadito, il Signore sceglie le cose piccole, le cose umili, per fare le grandi opere. Dio riconcilia e pacifica nel piccolo. Ma anche nel cammino, camminando. Il Signore non ha voluto pacificare e riconciliare con la bacchetta magica. Oggi, pum, tutto fatto. Ci ha messo a camminare con il suo popolo. E quando abbiamo sentito questo passo del Vangelo, di Matteo, è un po' noioso, no? Ma questo generò questo, questo generò questo, questo generò questo. è un elenco. Ma è il cammino di Dio. Il cammino di Dio fra gli uomini, buoni e cattivi. Perché in questo elenco ci sono santi e ci sono criminali, peccatori. C'è tanto peccato qui. Ma Dio non si spaventa. Cammina. Cammina col suo popolo. Cammina col suo popolo. Cammina col suo popolo. Cammina col suo popolo. Cammina col suo popolo.